Buon pomeriggio, oggi è lunedì 12 aprile e parliamo di analisi ciclica evoluta su Standard Impulse 500. Andiamo a prendere sia il weekly che il 15 minuti come grafici. A che punto siamo arrivati? Allora, è evidente che la tendenza volumetrica a rialzo è andata a continuare costruendo un canale praticamente perfetto di salita. E siamo arrivati a questo punto però a rilambire la parte superiore. Per cui facciamo sempre attenzione a ciò che ci dice la ciclica evoluta perché va oltre la statica di un canale di analisi tecnica. E ci aiuta anche il discorso volumetrico e quello appunto del tempo misurato. Come sapete, da questo massimo abbiamo un annuale inverso che però è arrivato a 288 giorni e che quindi continuerà a salire fino alla sua chiusura. E come vi spezzo solitamente, il secondo t più 4 inverso, ovvero il secondo ciclo semestrale inverso che parte da un massimo, sviluppa un minimo e poi va a fare un massimo se si vincola appunto al ribasso come successo. È arrivato alla bellezza di 151 giorni su un massimo 168. Quindi abbiamo ancora 17 giorni eventuali al massimo di salita escludendo il discorso dei raccordi. Che cosa abbiamo invece di indice? Abbiamo che siamo arrivati a soli, tra virgolette, 265 giorni, infatti vedete che l'inverso è 288 e che quindi c'è tutto il tempo per andare eventualmente anche a 168 più 168 e quindi a 330 erotti giorni che è il massimo di durata. Come vedete, l'analisi fatta al 3 di gennaio 2021, ovvero ormai a 3 mesi e mezza di distanza che diceva che si sarebbe saliti almeno fino alla metà di febbraio, è stata corretta. Poi hanno fatto una finta e poi hanno continuato a tirare su. Questa è un'informazione che con la ciclica ho dato in anticipo fino a febbraio di un mese e mezzo e che adesso continua a pagare. Perché? Perché qui non può esserci stata la chiusura di un annuale e da questo massimo a poco alto non abbiamo avuto le condizioni anche soltanto sufficienti e minime per far partire un nuovo TP5 inverso. Quindi a questo punto dobbiamo capire fino a quando continueremo ad aggiornare i massimi prima che si inizia a scendere. Come sapete, se volessimo tagliare le cose con l'accetta, potremmo dire massimo mancano 17 giorni, ovvero partendo da oggi vado fino a 17 giorni e dico ok, al massimo fino al 5 maggio c'è la possibilità che si continui a salire. e la differenza tra durata massima e durata attuale, il secondo TP4 inverso. Per poter avere una maggior concretezza ancora, perché questo è un periodo di massima durata, si potrebbe iniziare a scendere prima. Vado a vedere i sottocicli. Per cui posso già dire con tutta tranquillità che da questo massimo a qua scusate ma sto diventando cieco abbiamo fatto 3 TP2 inversi e che se andiamo a finire qua abbiamo fatto 133 giorni che comunque sarebbe una durata onestissima per un inverso. Da qui, essendo che è partito il quarto TP2 inverso per l'accento tuo che sto proponendo a qui, con 35 barre il discorso è fatto eventualmente 36. Adesso se da qui può essere partito un nuovo TP2 inverso cosa che a livello formale con 8 barre ce l'abbiamo e quindi possiamo avere un ciclo appendice siamo però soltanto a 15-16 barre su minimo 24 quindi potrei dire tra alta lena di discesa e salite dovremmo continuare comunque a salire per tutta la settimana in media aggiornare i massimi fino a venerdì perché se già contiamo oggi come giornata e appunto un mensile dura almeno 24 giorni e io conto anche oggi siamo a 17 su minimo appunto 24 e quindi mancano ancora 7 giorni di alternanza tra discesa ma soprattutto salita e quindi aggiornamento dei massimi per al massimo 7 giorni per al minimo scusate 7 giorni e quindi questo dove ci porta vogliamo andare a 24 barre? perfetto 24 barre minime di durata di mensile ci porta al 21 aprile quindi noi con l'evoluta sappiamo che orientativamente raccordi a parte qualsiasi genere di possibilità che volete a parte eccetera eccetera dovremmo provare ad aggiornare i massimi assoluti attuali quelli fatti a 4129 come minimo entro le 24 barre come minimo entro il 21 di aprile e quindi dovremmo avere tendenza a rialzo cosa ci dice il nostro indice? il nostro indice a parte che è in ritardo un pochino ci dice però di fare attenzione a una cosa che essendo arrivati come terzo mensile terzo mensile del secondo e ultimo teoricamente di più 3 se fosse un 4 tempi ma stiamo allungando e tirando i periodi per le lunghe perché abbiamo una forza rialzo pazzesca ok a questo punto possiamo dire soltanto una cosa che con 26 barre siamo già oltre la durata minima di 24 del mensile e siamo già peraltro arrivati su un secondo bisettimanale e al secondo settimanale del secondo bisettimanale ovvero quella che dovrebbe essere ormai prossima come fine per il tutto abbiamo fatto così 8 barre più 4 siamo a 4 giorni su minimo 6 per la chiusura del secondo t e poi del secondo t più 1 e poi del t più 2 e che cosa ci richiede la chiusura di un t più 2 ci chiede un sottociclo di 3 gradi inferiore ribassista ovvero che cosa un t meno 1 ribassista t meno 1 ribassista che cos'è almeno 3 giorni ecco ci si richiede di tornare come minimo sotto i 4082 se volesse aver già fatto il massimo cosa che però non penso sia però capite incrociando l'inverso con l'indice noi possiamo sapere per quanto tempo si può provare a salire se siamo a 4 giorni su massimo 11 sappiamo che eventualmente si può provare a salire per 7 giorni al massimo aggiornare il massimo anzi in realtà un po' meno di 7 giorni perché poi bisogna andare in chiusura di tutto il resto anche soltanto 3 giorni mi bastano 3 giorni per chiudere l'inverso se sono a 4 giorni mi bastano e avanzano a quel punto entrano in gioco gli swing vi faccio vedere anche il grafico a 15 minuti eccolo qua ok questa è la centratura da qui dovrebbe essere partito un nuovo team inverso quindi è stra-vincolato a ribasso ovvero rialzo per quanto riguarda l'indice e fate attenzione però alle divergenze guardate qui che divergenza gigantesca abbiamo continuazione prosecuzione della salita mentre invece qui tutt'altra cosa aspettate che qui mi sia incastrato il grafico eccolo qua da qui invece se qui abbiamo massimi crescenti qui abbiamo massimi decrescenti e quindi allo scadere del tempo ciclico minimo 6 timonitri inversi dovremmo iniziare a scendere a meno che non cambi la situazione per cui vi lascio con questa immagine vi ringrazio per il vostro tempo e per la pazienza che avete dimostrato nel chiedermi l'analisi che finalmente sono riuscito a fare sono impegnatissimo per cui vi ringrazio ancora per la pazienza e vi auguro una splendida giornata a per la pazienza per la pazienza per la pazienza